Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il TBS Podracer da 4 pollici, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Il Podracer arriva nella classica confezione blu, vediamo subito cosa troviamo al suo interno. Abbiamo i braccetti, due piastre, la viteria per assemblare il frame, due canopi e quattro viti per fissarle. Le canopi sono una in plastica dura e una in TPU. La canopi in plastica dura sembra abbastanza resistente e non dovrebbe rompersi tanto facilmente. Per quanto riguarda quella stampata in TPU risulta essere di buona fattura, come sappiamo il TPU è un materiale piuttosto resistente agli urti, tuttavia questa è leggermente più pesante dell'altra. Il peso della canopi in TPU è di 9,2 grammi. Il peso della canopi rigida invece è di 8,1 grammi. Vediamo ora gli spessori delle parti in carbonio. I braccetti sono da 4 mm, mentre le due piastre di fissaggio sono entrambe da 1,5 mm. Ok, ora possiamo montare il frame, tra le varie viti a disposizione individuiamo le 8 viti da 9 mm. Prendiamo la piastra con i dadi a pressione e la mettiamo in questo modo. Sistemiamo i 4 braccetti con i fori in corrispondenza dei 4 dadi, poi mettiamo la piastra centrale sopra. Infine blocchiamo tutto con le 8 viti. Concludiamo fissando la canopi con queste 4 viti. Per assemblare il frame non ci serve altro, le viti che rimangono servono per fissare i motori e lo stack. Il peso del frame assemblato è di 37,2 grammi. L'interasse è da 160 mm e l'ideale è abbinarlo a motori con eliche da 4 pollici. Per quanto riguarda la misura dei motori, il range ottimale è da 16.06 a 18.05 o simili, con KV da scegliersi in base all'elipo che state usando. In genere delle 4S da 650mAh o delle 6S sempre da 650mAh danno un buon compromesso tra tempi di volo e prestazioni. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questo Podracer segue la filosofia di tutti gli altri frame TBS. Infatti abbiamo un telaio semplice, dal costo relativamente contenuto e senza troppi accessori a corredo. In conclusione, se volete assemblare un toothpick da 4 pollici, questo Podracer potrebbe essere una buona scelta. Oltre al frame però, assicuratevi di prendere un battery strap ed una gelatina per le lipo, perchè non sono comprese col frame. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione del TBS Podracer. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi Patrons cliccando il link a fine video.